Partita la prima sera Quanto riguarda la seconda serie, ha vinto Freda Arma, l'artistico Rodardo Rosso e il Badoni, 15 nenti, testa di Dardi Giulia, del Grazzi, 17 e 13. Tutto in bestia trete, il Badoni. Guarda, la scala, via! Che sei? Via! Andiamo a vedere le batterie ragazzi. Stefano, smesso incroci. Andiamo a vedere le batterie. Grazie a tutti. 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 Grazie. 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 5, 2, 4, 2, 6. Grazie! tre, cinque, quattro vai Simo vai Simo sei siamo in perfetto Il secondo, Granvilla-Luca, Nassi e Iventù, il terzo, Granvilla-Luca, Nassi e Iventù, il terzo, Granvilla-Luca, Nassi e Iventù. Vai in cara! Vai in cara! Vai in cara! Vai in cara! Vai Bax! Corre! 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 Qua c'ho le capelli tutte le tue! Cioè, io non sto in vento, però... Quella lì, guarda! Sto facendo un stato fotografico! Grazie! Grazie! Tollino con il trattamento decisivo! Mi vedevo se due Bue. Non una vostro testo, non una vostra scopertata! Grazie! Guardate voi che vogliono togliere i cartellini! Non vano uscite sul trattamento! Dai dietro, dietro è terminata questa gara e cominceremo le premiazioni lo chiamerò e in premiante con questo gioco Grazie Guarda i minuti delle cadetze Vedi che spazio Vai Baru Ecco Baru Occhio che arriva, Baru Bianco, bianco Quanto ha fatto? 12-4 Bene Adesso arriva Sono 885 punti Guarda 25 Manca il secondo Secondo Ecco lo stesso tempo del primo Capasso Marcello del Basley 14-5 Vincitore dei campionati maschili Colmenza dei piedi dei grassi 15-5 Povera 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 E passiamo le due prime, Rosetta Caterina, e sempre con tutti i primi prima, Basteri Gritta, cambiati. Scusate, anche i cambiati Giulia, ero tre, prima Basteri Gritta, chiedo scusa. Conti Marti Cilenti, secondo Panzeri Nicolò Garbiate, 19, abbiamo vinto questa gara degli 80 metri sulle migliori, Marco Andrea Garbiate, 18. Non è la testa quella. Non è gelino. Terza, Quaretto Arige, 14 netti. Seconda, Barri Nicolò, di Teoglassi, 29. Vincitrisi per teoglassi femminili, Arrigoni Nicolò, di Dardo Rosso, 28. Grazie, grazie, grazie. Venite su, dai. Venite su, dai. Sì, venite su, anche voi. Anche di tua, venite di tua. In una premiazione di questa prima parte, per cui mi tocchiamo gli occhi, un'interessente, e la bella vi chiede, grazie, un'interessente. Sì, certo. Sì, certo. Sì, dai, per me, basta. Le medaglie non la farà la vera. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Poi ci sono due vincitori. Due vincitori. Colombo Andrea, Farini, 11-16. Due vincitori. Due vincitori. E Caldirola Simone, del Basel, 11-16. Non c'era un sesto, tre terzi e due primi. Ora adesso, dopo i cento, premieremo anche i duecento, così dopo fanno le stoffette. 885 punti, che per i maschi è Andrea Deghi, lungo 675, 825 punti. Vincitori. Non c'era un sesto, non c'era un sesto, non c'era un sesto. Non c'era un sesto. Grazie. 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 Terza. Tergani Giulia Pasley 29 letti Seconda Cavirani Nichiera Pasley 28 letti Iniziale Quattacarra dei Deputati Pugliani Pugliani Taglia Pue Arianna con 26 letti Pugliani 6, Terzo Bartesani Giacomo 25,9 Secondo Viagra Riccardo 24,6 Vincitore Di besti 200 cani maschili Con 23,2 Titola Ghiardi Deliceo Grassi Non lo so Se vediamo alle passette Grazie Grazie Deva venire entro la riga gialla Venga Ok, buono Via, via, via Via, via Via, Paola Via Davanti sotto Via, 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 via Via, via, via Davanti sotto Davanti sotto Davanti, dava Davanti, dava Ok Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.